Un'uscita di scena volontaria i due nuovi ingressi nella nuova puntata del Grande Fratello del 20 novembre 2023 Ciro Petrone ha infatti deciso di abbandonare il gioco, da settimane in realtà meditava su questo addio E come annunciato anche su queste colonne, durante la serata sono entrati Marco Maddaloni e Sararicci a infoltire il cast Non certo due sconosciuti, anzi Lui è il giudoca già protagonista di diversi reality show, come l'Isola dei Famosi, che ha anche vinto nelle elezioni 2019, e Pechino Express Lei, Sara Ricci, è da anni un'attrice televisiva e cinematografica molto nota per la sua partecipazione a diverse fiction e show up come Un posto al sole e anche Vivere E infatti conosce bene Beatrice Luzzi, la protagonista di questo GF, con la collega ha condiviso il set di Vivere tra il 1999 e il 2002 Ma proprio durante le presentazioni, prima di varcare la porta rossa della casa, Signorini le ha ricordato una GF fatta proprio alcune settimane fa GF, imbarazzo per Alex, beccato al bagno Solo tre settimane fa, infatti, nel corso di un'intervista a TED24, Sara Ricci aveva affermato che non avrebbe mai partecipato a programmi come il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi Non li guardo Non mi piacciono Preferirei partecipare a Ballando con le stelle oppure tale quale show, le sue parole E Signorini gliele ha ricordate in diretta Capisci Alfonso cosa mi hai fatto fare? È vero, l'ho detto Però mi è piaciuto il tuo modo di approcciarmi e di invitarmi Mi voglio divertire, si è giustificata l'attrice New Entry del GF Che poi, poco prima di Marco Maddaloni, è entrata in casa Dopo la puntata, è stata proprio Beatrice Luzzi a fare da padrona di casa e quindi di condurli in un breve tour tra le mura della casa più spiata d'Italia Beatrice e Vittorio hanno portato i nuovi concorrenti a fare un giro per le stanze, bagno incluso Questo è il bagno, si sente dire all'attrice nel video Poi una risata fragorosa di tutti quanti E questo è Schwarzer che ci ha, ha aggiunto Beatrice che evidentemente ha sorpreso Alex, sul water Il filmato, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale Il filmato, nemmeno a dirlo, è diventato subito